Ciao a tutti ragazzi di Spazio Games, qui il Spartanon117 e benvenuti in questo nuovo video su Battlefield Hardline. Nello scorso video vi dissi che avrei creato due o tre video, a seconda di come avrei preferito poi io organizzarmi, per parlare di tutti gli aspetti messi in risalto dalla beta, tutte le differenze che ci sono dai capitoli precedenti, cose nuove, cose di questo genere. Oggi parleremo delle classi, delle modifiche che sono state apportate, di come sono strutturate le sempre quattro classi presenti in Battlefield Hardline. Questo sarà anche l'ultimo video che farò dedicato a Deadline, perché comunque avevo intenzione di farne un altro dedicato alle modalità. Ma riguardo adesso e riguardo alle modalità comunque ci sono veramente poche informazioni, perché nella beta sono presenti soltanto due modalità in soltanto una mappa. E onestamente per dirvi quello che avrei da dirvi ci metterei sieno un minuto e non sarebbe neanche troppo dettagliato, perché comunque servirebbero più mappe da campionare per poter dire qualcosa di certo, non semplicemente magari delle coincidenze che stanno bene con la mappa o cose di questo genere. Quindi ho deciso di non parlarne proprio, perché comunque sarebbe come parlare senza sapere niente, quindi diciamo che preferisco non parlare a Vanvera. Comunque parliamo appunto delle classi presenti in Hardline. Sono sempre quattro, la struttura di base è sempre la stessa, un assalto barra medico, un ingegnere che si chiama meccanico, un enforcer, un supporto insomma, e uno specialista, e dico bene specialista. Questo perché comunque la classe rimane molto simile al classico scout sempre presente in Battlefield, ma è più coerente con il contesto del gioco stesso. Adesso infatti per fazioni di polizia e terroristi uno specialista diciamo che è un pochino più verosimile di uno scout, di un ricognitore, che di solito è un personaggio, di solito è una figura presente più in ambito militare, quindi diciamo che semplicemente il nome è cambiato per una questione di coerenza. Per quanto riguarda le armi principali la struttura sarà sempre più o meno anche lì la stessa. L'assalto, il medico avrà i fucili d'assalto, il ingegnere avrà le PDV, ci sarà sempre il supporto con le LMG, le Light Machine Gun, ossia le M60, comunque le mitralettrici leggere pesanti, non so come chiamarle perché tecnicamente si chiamano mitralettrici leggere, ma di leggero hanno ben poco, secondo me, quindi diciamo quelle lì, le M60 tipo che rende bene l'idea, e infine c'è lo specialista con i fucili di precisione. Inoltre tutte quelle armi che facevano parte delle categorie tipo fucili a pompa, DMR, carabine, non esisteranno più, non saranno più armi disponibili per tutti i kit, ma bensì sono state suddivise nel seguente modo, le carabine sono state divise tra fucili d'assalto e PDV, secondo me le divideranno in base alla classe che più rispecchia le loro caratteristiche, ad esempio prendendo in considerazione le carabine presenti appunto in Battlefield 4, la K5C è un'arma che ha delle statistiche simili a quella di fucili d'assalto, quindi sarebbe opportuno metterla nei fucili d'assalto, per fare una divisione equa si intende. Comunque non è detto neanche che ce ne saranno così tante da dividere, non è che prendano tutte quelle dei vecchi capitoli e dividono, ma semplicemente rimuovono la categoria e si la gestiscono, perché comunque sono convinto che molte armi ritorneranno. Per quanto riguarda i fucili a pompa saranno come armi disponibili solo ai supporti, questo almeno per quanto riguarda la beta, però lì i fucili a pompa, le doppiette o comunque tutti quelli facenti parte a questa categoria, si trovavano lì, nella classe supporto, sbloccabili, acquistabili con i crediti di gioco, mentre i DMR saranno disponibili soltanto per la classe specialista, quindi fucili di precisione e DMR, un po' come era anche per Battlefield 3 o Battlefield Bad Company 2. Passando invece alle armi secondarie, anche qui saranno presenti delle novità, infatti da quanto si può vedere nella beta, non tutte le classi hanno le stesse armi secondarie. Ad esempio la classe come quella dello specialista avrà a disposizione come arma secondaria la Tec-9, che è una pistola mitraiettrice tecnicamente, arma che non è disponibile appunto per tutte le altre classi, quindi in questo titolo a hardline, se le cose rimarranno così, sarà importante anche la selezione della classe con l'arma secondaria più appropriata. Passando a parlare invece degli equipaggiamenti, un fattore che si nota molto facilmente è che saranno presenti alcuni DS, alcuni equipaggiamenti e alcuni gadget che sono disponibili per tutti i kit. Questi sono per esempio la maschera antigas, il rampino per raggiungere delle sporgenze e gli accessori che comunque non sarebbe stato giusto mettere soltanto in una classe piuttosto che in un'altra, perché l'avrebbero avvantaggiata davvero troppo rispetto alle altre. Mentre per quanto riguarda tutti gli altri accessori comunque sono bene o male gli stessi, il medico, l'assalto bene o male avrà sempre il kit medico, la siringa per rianimare i propri compagni o la siringa per auto rianimarsi, il meccanico avrà sempre i lanciarazzi o le mine, l'attrezzo riparatore ovviamente, il supporto avrà sempre il C4 che ritorna a essere di sua proprietà, mentre lo specialista avrà per esempio delle mine a laser che sostituiscono le Claymore, tipo delle mine che hanno un raggio laser, si interrompe il laser, esplodono, cose di questo genere. Non so sinceramente quanto siano efficaci anche contro i veicoli, principalmente li si usano per l'affanteria da quanto ho potuto provare e vedere, però comunque non vedo perché non si possano mettere anche in mezzo alla strada e far saltare qualche bella motoretta, no? Comunque per quanto riguarda i gadget, bene o male la situazione è rimasta invariata, cambia il nome, cambia il modello di gadget, ma bene o male l'utilità è sempre la stessa. Infine per quanto riguarda le specialità, i perk, i potenziamenti, come cavolo li volete chiamare, ci sono delle piccole differenze rispetto ai capitoli precedenti, infatti non potrete presceglierli durante la creazione delle classi, o perlomeno nella beta non c'è questa possibilità, ma bensì in partita quando arriverete a fare tot punti, tot punti di squadra, non so onestamente con che criterio, vi farà scegliere quale prenderci, per esempio ridurre il fuoco della soppressione nemica o fare in modo che la tua soppressione sia più efficace. E questo potrebbe dare una svolta interessante alla partita, perché invece che sceglierli prima di nascere e poi averli, ma magari non poterli utilizzare perché risultano essere inutili, voi sul momento prenderete quello che vi risulterà più utile in quel dato momento. Quindi diciamo che questa potrebbe essere una scelta veramente molto interessante, purtroppo però dovremo aspettare il gioco finale per poterlo dire. Insomma ragazzi, questo è tutto ciò che dovete sapere sulle classi di Battlefield Hardly, tutte le modifiche che sono state apportate. Facendo un riassunto veloce veloce c'è da dire che le classi di base sono rimaste invariate, sono sempre 4 con le stesse utilità, sono stati introdotti però nuovi gadget e il sistema con cui vengono classificate le armi principali e secondarie è leggermente cambiato, ma bene o male è sempre il solito sistema di creazione delle classi di Battlefield. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito a passare dal mio canale, vi invito a lasciarmi il vostro feedback qui sotto con un commento e noi ci sentiamo con video futuri sempre a tema Battlefield. Ciao a tutti ragazzi!